Altro rinforzo per il giarre del presidente Gianni Di Martino e del responsabile dell'area tecnica Pasquale Sanseverino. Infatti approda in giallo-blu l'attaccante esterno Ferdinando Garrasi, il classico giocatore di categoria, che nelle ultime due stagioni ha vestito le maglie di San Gregorio, Mister Bianco e Siracusa. Con l'arribo di Garrasi adesso i giallo-blu possono dire di avere completato la batteria degli esterni, fondamentali per il gioco di Maurizio Romeo. Dopo Napoli, Monteforte e Garrasi, il club di Via Olimpia ha perfezionato l'acquisto del portiere Gabriele Strano, proveniente dal San Gregorio, che dovrà fare il secondo a Nicotra. Per completare questo mercato di dicembre serve adesso una prima punta e se Gianni Di Martino vorrà fare un sacrificio si può arrivare anche ad un obiettivo importante. Sanseverino infatti segue tre, forse quattro piste. In dieci giorni il Giarre dovrà fare una scelta precisa. Se gli innesti sono stati indovinati o no, lo si capirà già da domenica al regionale contro il Milazzo.